Allora, Fuflix è nato nell'estate del 2020, ad oggi ha circa 21.000 iscritti, e ovviamente sempre come dire il guru del business online, tutto organico, cash, cioè non ho usato il cash, non ho fatto pay the taxing, and it's only organic, it's only organic way, ok? We can go on in English if you want. Yeah, yeah, that's fine. Somebody's doing all right. Cash, cash, ho detto che dici cash perché ci vuole, business, business, cash. Cash, marketing. E comunque, il business. Gurulandia! Ah, siamo partiti? Sì. Ah, ok. Ma questo ci sta buono. Il podcast in cui non avrei bisogno. Ciao, che sono Walter. Bella sigla. Io la lascerò così. Ah, però, ti piace? Lui è Walter. Signore e signori, oggi a Gurulandia abbiamo, come ti posso dire, il guru degli anti-guru. L'incubo di ogni guru. L'incubo di ogni guru. Partiamo benissimo. Partiamo benissimo. Che se la definizione mi affibbiano i miei haters. Io non sono un tuoi hater. No, non so, non so. Se no, probabilmente non mi invitavi. Oppure hai fatto una trappola. No, attenzione. Non ho a fare lo schia a Dubai. Io posso invitare anche chi non mi piace. Però secondo me questa puntata sarà interessante perché di solito ci troviamo con persone magari che sono guru. Invece qui ci potrebbe essere magari dei dibattiti interessanti perché... No, ma oggi ci scagniamo. L'altra faccia della medaglia. Io la stavo dicendo. Oggi ci scagniamo. Vabbè, ad ogni modo, ragazzi, diamo il benvenuto a Germano Milite. Facciamo partire un bel applauso. Allora, classica domanda. Questa è la prima domanda che faccio agli ospiti che vengono qua da noi in studio. Chi è Germano Milite? Raccontaci un po' chi sei, cosa fai. Fondamentalmente nasco rompipalle fin da chiedere a mia madre. Insomma, ho iniziato a dormire in culla. Non la facevo dormire la notte. Mi dice sempre questa. Mi racconta sempre. Fino a tre anni non chiudevi occhio. E mia nonna andò a vivere la mia madre. E poi sono pensato a non far dormire mia madre e a non far dormire i cazzari. La mia missione è non far dormire la gente la notte. Mi sono poi evoluto. Sono passato dai parenti agli sconosciuti. A parte le battute, sono un giornalista professionista che si occupa da una dozzina d'anni di tutela del consumatore e di comunicazione online. Ho anche dei miei, come direbbero i guru, dei miei business cash. Allora, yes. Scusa se ti interrompo. Prima, 12 anni fa, di che truffe ti occupavi? Perché ora sono un fuffaguru. Allora, quando ho iniziato, la prima, però non mi ricordo, la prima inchiesta che feci era su un grosso brand assicurativo, Agos. Ah, cazzo, sì, lo conosciamo tutti. Mi assicurai. Era il 2011, 2012, parliamo di 10 anni fa, 11 anni fa. E me la faccio brevissima. Comunque mi hanno venduto questa assicurazione con delle premesse e delle promesse che poi si sono rivelate a suo tempo. Truffa. No, truffa no, però ingannevo. Non corrispondenti al vero, per dire, mi ricordo ancora. Chiamo a qualsiasi ora, ti rispondiamo in pochissimi minuti, pronto soccorso. Chiamavo, squillava, squillava, squillava. Così feci un articolo, raccontai la mia esperienza, avevo anche registrato la telefonata, perché io, da persona mentalmente non stabile, registro tutte le mie telefonate, a parte scherzi perché ricevo anche minacce, chiamate anonime, quindi ho sempre la telefonata registrata. Che cosa feci? Pubblicai l'articolo e mi arrivò la mia prima lettera di diffida, da uno studio legale enorme, con 12 avvocati in fila, io non battei ciglio, all'epoca, avevo 24 anni, io ho raccontato la verità, ho raccontato i fatti, ho le prove, quindi perché mi mandate questa cosa per farmi cancellare? Devo dire, e lì vedi la differenza, mi chiamo poi il country manager, col quale sono rimasto poi in contatto, gli anni, scusandosi, chiedendomi di fare una replica, una rettifica e promettendo insomma che avrebbe rivisto il modo in cui quel prodotto specifico veniva venduto, quindi poi ne sono usciti bene. Quella è stata la prima volta che io, poi da lì è stata tutta una... La prima diffida non si scorda mai. Esatto, poi lì fece parecchio scalpore perché si posizionò bene su Google a suo tempo e da lì poi venni contattato da altre persone, poi mi sono occupato del, come lo chiamiamo, del no profit, che sia profit, quindi dei sistemi simili multilever che ci sono, mi sono infiltrato dentro una di queste società che reclutava i cosiddetti dialogatori, per esempio quelli che vedete con il logo delle varie no profit che dicono, vuoi partecipare, vuoi diventare sostenitore, c'era tutto un sistema a provvigione, chi stava sotto di te prendeva una percentuale. Un schema Ponzi anche lì, un semi. Sì, è più un sistema multilever, dove tu hai quello sotto di te e poi diventi area manager, quello là, quello qua. Quindi Agos è stato il Jenga, il tassello che... Sì, la prima volta che usai, perché poi l'avevo appena fondato e pubblicato Young.it, che è la mia testata che è ancora online, all'epoca ancora non era una testata che è anche registrata. Vi cos'io occupa sempre di questo? In realtà ci siamo occupati di politica, economia, ho fatto anche viaggi, reportage finanziati in crowdfunding, sono stato in Africa, in Irlanda a fare questi, in Brasile, sono due mesi in Brasile, con un reportage che è stato finanziato in parte in crowdfunding, in parte dall'IASEC, e quindi da questa esperienza, all'epoca avevamo ancora un blog, poi l'attestato è registrato nel 2014, da qui poi è nata la mia passione per quel tipo di tematiche là. E oggi, perché Germano Milite, lo abbiamo invitato da Gurulande, perché Germano Milite a oggi è a capo di questo gruppo, da te creato, correttimi se sbaglio. No, 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 io dico a capo, no, no, sì, sì, ragione, 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 no, a capo non piace, ma sai perché non per fare… Fondatore, 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 bravo, bravo, ma non per fare… No, no, ma io adesso sei chiamato capo, perché è chiaro che fondatore e modatore sono io, però su Fuflix ci sono fido pure io. Fuflix? Ah sì? Ah, come? Sul gruppo, eh beh, quando ho fatto la raccolta crowdfunding per Nexus ho ricevuto diversi attacchi, attitudine dei post che io ho approvato, io lo dico sempre, ragazzi. Un post per andare su Fuflix deve essere approvato da me, sì. C'è una monarchia, sì, c'è una monarchia dittatoriale. Cioè, sono da te o ci sono altri moderatori? Assoluta, assoluta, io sono il supremo leader, chiamato anche imperatore. Perché sei a capo? Infatti capo, imperatore, capo è banale, imperatore. Sua maestà. Leader maximo, non lo so, eh, sua eccellenza, non lo so, vedete comunque, a parte i scherzi, io lì sì, cioè, chiaro, perché altrimenti sarebbe ragazzi un macello, avremmo posto piatti, questo è un truffatore, quindi la gente poi usa questo, io lo dico sempre, il termine truffa, ragazzi, no? Se noi usiamo le parole, sono importanti, come diceva qualcuno, se noi usiamo il termine truffa così, a caso, truffa, 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 no, c'è la truffa, c'è l'obicità ingannevole, c'è la pratica commerciale scorretta, cioè, non è sempre truffa. Ok, e lì ci arriviamo, perché questo è un argomento importante. Guardate, qui, Fufflix, io lo dico sempre, anche ai miei conoscenti, che poi fiscali dicono, ah, Germano, ma su Fufflix non è approvato, Fufflix non è roba mia, cioè, Fufflix è quello che è, è diventato quello che è il gruppo Fufflix, perché è aperto, perché anche io lì sopra ho ricevuto delle critiche, le ho approvate e ho risposto sul punto, perché se non è nascondere, per me devi rispondere. E se ti fanno, chiudo, una critica strumentale, quindi ti accusano ingiustamente, lì per esempio si era messo in dubbio che io avessi veramente 30.000 clienti con il mio e-commerce, mentre è la verità, mi firmi un NDA e io te li faccio vedere, che sono 30.000, sparito nel nulla. Quando ti fanno una critica strumentale, in realtà è un assist, è una cosa odiosa, ma al contempo è un assist, perché dimossa la malafede dell'interlocutore e il fatto che tu sia invece in buona fede, che non ci siano cose concrete su cui attaccarti. Chiaro. Di che cosa si occupa Fufflix? Facciamo un attimo un passettino indietro, perché secondo me siamo andati. Hai ragione. Quanti iscritti ha oggi? Allora, Fufflix è nato nell'estate del 2020, ad oggi ha circa 21.000 iscritti, e ovviamente è sempre come il guru, il business online, tutto organico. Cash! Cioè non ho usato il cash, non ho fatto pay the taising, and it's only organic, it's only organic way, ok? We can go on in English, if you want it. All right, all right, all right, all right, all right, all right. Cash, comunque. Cash, ho detto che dici cash, perché ci vuole. Che ti piace. Business, business, cash. Marketing. E comunque, il business, in realtà non c'è ancora un business, mi accusano di voler monetizzare, mostro, mostro, mostro. C'è provato, però. Che brutta persona. C'è, ci ho provato e non ci sono ancora riuscito, c'è proprio dove stare in galera, non so come sto ancora qui, ragazzi, incredibile. L'Italia funziona malissimo. Peggio di chi è condannato in via definitiva per truffa. E su Fufflix l'idea è di proseguire, usando anche la satira, rinonia, l'analisi tecnica specifica, competente, quello che ho iniziato con Young. Fufflix nasce come rubrica Young. Nasce in realtà da alcune inchieste appuntate, devo dire, suggerita da alcuni lettori che dicevano, cavoli, ma è come Netflix. Allora ho detto, è come Netflix, io mi occupo di Fufflix. Quindi da lì è nato il nome, che sicuramente è anche azzeccato. E quindi è una community che è diventato un po' un organo anche di monitoraggio della fuffa, ma anche della truffa, ma ripeto, anche dell'analisi della pubblicità, della comunicazione, della buona pubblicità, della buona comunicazione. Quindi è un gruppo dove semplicemente si discute, si segnalano pratiche scorrette o truffe e la gente trova informazioni che online non trova in maniera spontanea. Poi se voi parliamo di questo, i pubblici nazionali, di come si posizionano su Google. Ma c'è tante cose di cui parlare. Oggi quanti membri avete su? Hai detto 22 circa, 22k. 22.000. 21.5k. Qual è stata la primissima inchiesta di Fufflix? Il primo guru che hai smascherato? Guarda, io credo un vostro prossimo ospite dovrebbe essere Thomas Macory, il primo video dove facciamo vedere gli ordini autofatti, gli ordini fatti con il cash on delivery. code, C-O-D. Quindi essenzialmente lui faceva delle dashboard fake utilizzando… Sì, l'accusa era questa e tra l'altro impariamo del primo Macory, proprio all'inizio, di quando lui esordì con il… Che anno era? E' a 2020. Ok. Pante mia. In realtà però sono in dubbio, devo dire, se il primo battezzato è stato proprio lui o il buon Mick. Mick Cosentino. Cosentino, che ha un avvocato che era un fenomeno, è riuscito a farmi un esposto, poi io leggerò, caro avvocato, dimmi cos'è dire, questo esposto che mi ha fatto all'ordine i giornalisti, totalmente ridicolo, e quelle sono state le prime inchieste che hanno fatto fare il boom. Ma perché ragazzi hanno fatto fare il boom? Perché non c'era nessuno che faceva quello che facevo io facendo i nomi e i cognomi? Ma anche tuttora, mi sa, no? No, non c'è, perché ragazzi, poi lo diciamo, magari lo so di anche adesso, è una gran rottura di Pelotas. Quante querelle ha preso? Io ho tre querelle in un anno, nell'ultimo anno, e per fortuna il San Sindacato dei giornalisti in Italia, dei giornalisti della Campania, mi ha aiutato, cioè mi ha fornito degli ottimi avvocati, tra l'altro specializzati in diffamazione, a differenza degli avvocati che prendono questi tizi e c'hanno i milioni, poi si prendono, prendono gente che, boh, sembra, sai, non sono professioni, sono presi dalla strada, per citare Alto Gianni Giacomo, quindi professioni desideri, e grazie a loro io ho potuto andare per cartetta e io avrei buttato letteralmente in the water, almost 10k. Infatti, da qui nasce subito una domanda. Sì. Cioè, chi cazzo te lo fa fare? Cioè, capito? Perché la mia, cioè, non c'è, cioè, è una vera e propria missione di vita. Beh, l'invidia. Perché sono povero, rosico, sono frustrato. Dai, a parte gli scherzi, no, è una domanda seria. Perché tu, io te l'ho detto scherzando, ma la motivazione principale che viene di solito inserita quando si dice, ma perché il mide fa questo è perché è povero ed è frustrato ed è fallito. Eh, ma, vabbè, questo è quello che dicono gli altri. La mia è una missione, dicevo prima, è proprio una missione, perché se tu non lo vedi come missione, ma veramente come, ed è gente che non riesce a concepire che tu non faccia solo tutto per soldi, no? Cioè, fai una roba perché ti piace, perché ti fa sentire vivo, perché quando vedi una, qualcuno che viene truffato, raggirato, quando vedi un, io ti chiamo uno spigato con i soldi, che vuole farci credere che il valore sia questo, fare soldi anche a costo di fregare tua madre, a me ribolle il sangue nelle vene. Allora, quando poi mi hanno chiesto anche a un evento, ma perché è nato Fuflix, la mia risposta secca è stata perché volevo che smettessero di vincere loro. Perché prima non c'era un contraltare, non c'era un contro storytelling. Tu mettevi il nome e cognome di uno di questi cazzari e trovavi solo Marchette. Ma anche sui giorni importanti. No, ma ci credo. Questo secondo me ti fa onore. A me piace tantissimo questa cosa. Lo dico veramente con sincerità e trasparenza. Sì. Mi è piaciuto moltissimo anche l'idea con cui è nata Fuflix e questa tua missione è giustissima. Un po' anche il motivo per cui è nato Gurulandia in un certo senso. Sì. Anche se devo ammettere, e anche qui nella mia più totale sincerità e trasparenza, che magari era partita bene e ora è un po' andata nel degrado. Ecco, una cosa che anche a me... Ora poi ne parliamo, non è un attacco, è una discussione. Ti rompo la faccia dopo. No, no, ma è una discussione che volevo fare. Non sembra Davido, ma è bello. Ma questo probabilmente perché sono sempre più persone, quindi è anche più difficile la gestione. Fisiologicamente, sono l'unico che modera. E quindi magari... Tutto gratis. Tu gestisci tutto da te, Germano. Perché quello non deve essere semplice, perché a volte secondo me si va un po' nella... Ma ragazzi, a volte in tutte le società, cioè se tu prendi un gruppo di 20.000 persone, ci saranno un numero statisticamente fisiologico di teste di minchia. È normale. Cioè, è un termine scientifico. Considerando la media in Italia è molto alta. Tra le decine, se non centinaia di guru che in un qualche modo hai valutato, hai commentato su Fuflix, ti è mai capitato di fare un errore di valutazione? Cioè, magari... Ci sto pensando, vada, innanzitutto io penso che statisticamente prima o poi capiterà. E vabbè, quello... Quindi se ti dico no, non mi è capitato, capiterà. Questo è anche un altro tema importante, no? La pretesa dell'errore zero. L'errore zero non esiste. Anche perché tema che spesso si sottovaluta, ne parlavo prima con te, no? Quando eravamo in auto. Io vengo sottoposto a forte stress quando faccio un'inchiesta. Cioè, quando attacco uno, tipo quel matto originario di Torino, pruri, pregiudicato, no? Chi è? Miserabile verme. Allora, quando attacco questa gente, vengo insultato, diffamato, provocato, minacciato, in tutti i modi. E quindi tu, visto che sei un essere umano, sai che non la puoi prendere sul personale. Perché se la prendi sul personale... Cioè, tu la puoi anche prendere sul personale. Cioè, ok, è personale, ora questo la voglio massacrare. Però lo devi sempre fare seguendo le regole deontologiche e raccontando la verità. Amminacciato, insultato, eh? Da chi? Da la persona in questione. Esatto. Però te hai messo quella persona in questione in un gruppo di 20.000 persone che fanno comunque questo a lui. Di questo ne sei cosciente? No, lui c'è. Il gruppo si è messo lui. No, ma non parlo di lui, in generale. Cioè, io sono convinto che se te prendi me e mi metti su Fufflix, mi metti in pasto a 20.000 persone che, in un qualche modo, senza neanche sapere ciò che faccio, verranno ad attaccarmi, insultarmi. Questo sì, assolutamente. Anche perché io, diciamo, sanno le persone che quando parlo di qualcuno lo faccio perché ho prove schiaccianti alla mano, non perché mi sta antipatico. Se dovessi parlare della gente che mi sta antipatica, fare probabilmente 10 post al giorno e mi brucerei la credibilità. In realtà Fufflix è una community abbastanza, come devo dire, immunizzata da certe derive. Poi ci sono gli imbecilli, in realtà ci sono anche quelli che io chiamo le kaguru dentro Fufflix. Io accolgo tutti. Anche i discepoli. Come? Che entrano là, mi prendono in giro, prendono in giro altri. Quindi, essendo una community fondamentalmente che io cerco di tenere molto distante dal regime tipico delle sette, no? Se tu vai, ecco, sul mio gruppo per dirti, questo tizio è lui che se ne è andato, è scappato. Io non l'ho mai bannato. Invece lui mi ha bannato dal suo gruppo Telegram. Quindi è lui che mi ha impedito. Io non impedisco mai a nessuno. Ecco, tu puoi venire lì, poi sta a te vedere come rispondere. Magari se sei milionario, prendere qualche consulente e dire, questo mi ha detto queste cose, come rispondo? O vado distinto e insulto tutto il gruppo e dito, siete una mandria di mentecatti frustrati. E ma è chiaro che se tu dici una cosa del genere, cosa ti aspetti da un gruppo di... Se uno entra qua, no? E a noi ci dice, siete una manica di frustrati falliti. Io non credo che si presenta bene. Anche se noi magari siamo tutte persone equilibrate. Poi immagini se c'è qualcuno che è vero a me, perché sicuramente in Fufflix c'è gente che critica per invidia, per frustrazione. Ma anche per sport. Per sport. Ma per me può andare... Secondo me può andare bene criticare per invidia o frustrazione. Ci sta. A me non piace quando si critica a prescindere, senza sapere neanche che... Faccio un esempio concreto, però. Perché se no... Ti faccio un esempio su di me. C'è stato un post, per esempio, suo. È tipo due settimane. Vai, 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 vai. Io non sapevo niente, eh. No, no, non è preparato. Allora, però prima... Se ci credono che non è preparato. Praticamente il post era questo, guarda. E prima vorrei fare, diciamo, un'introduzione su questa cosa. Praticamente ti spiego perché... Eh, però lo possiamo far vedere così. Sì, ma lo mettiamo un po' stai. Ah, ok, ok. Questo è il tuo commento. E ora poi magari si mette così. Ti faccio un attimo tipo un'introduzione su... Dimmi, dimmi, dimmi. Poi ti commento questo. Vai. E praticamente ti spiego perché ho lanciato il corso e come si è svolto il lancio. Diciamo, ho fatto il mio lancio tre settimane fa. Di recente. Sì, sì, sì. È tipo una cosa fresca. E praticamente è dal 2017 che io investo in cripto. All'inizio ho fatto un sacco di cavolate, un sacco di soldi persi e tutto. Poi su Instagram ho iniziato a condividere, diciamo, tutte le mie analisi. Cioè non ho mai mostrato soldi, fatto vedere Lamborghini così. Io praticamente non lo facevo. Ovviamente non dico alle persone di comprare o vendere qualcosa perché non ho titoli per farlo, capito? Però, praticamente... No, no, no. Aspetta, questa è l'introduzione per spiegarti. No, certo, perché per il contesto che ho vinto non riporto. Perché te non hai criticato me ma la landing page, capito? Questo è un altro aspetto importantissimo. Io ti ho distrutto, abbastanza distrutto, se vuoi lo puoi leggere il commento, eh? Sì, sì, sì. A te sta là, quindi vado a vedere, lo vedete. La landing page. Questo è un altro tema, un altro grande elemento di incomprensione che c'è. Cioè, per me, tu puoi essere anche la Coca-Cola o una persona che lavora bene e comunicare in un contesto particolare e in un... Poi parlavamo prima di Agos. Sì, sì, sì. Non possiamo dire che sia un'azienda che fa i truffe o che sia fuffa, no? Però quando usi determinati elementi, ed è quello che noi anche io e noi critichiamo in Fufflix, cioè anche la forma... Secondo te sono campanelli da l'anno. La forma, la forma, esatto. Poi non è detto. Allora, qui io dico, ti prego, io già ho lì, mi si attiva un campanello, è un pregiudizio. Però ti volevo dire come ho svolto la vendita del corso. Praticamente è andata così, praticamente. Quindi io ti ho distrutto stare in e-page. Sì, sì, sì. Desso che faceva pena il font, il prezzo, il conto. Ah, ti ricordi? Eh, no, non ho letto qui. Ah, ok, ok. Ho letto qui e mi sono ricordato. Praticamente quello che è successo è che ho iniziato a postare le mie analisi, tipo dicevo, guarda, secondo me nel mercato succederà questo, salirà, scenderà, insomma, tutte queste cose. C'è analisi predictive, diciamo. Sì, e di solito quasi sempre si verifiava questa cosa perché io, diciamo, uso la psicologia dei mercati, non l'analisi tecnica, tutte queste cose. Il lancio è stato fatto non durante il bull market, per eticità, diciamo, perché avrei potuto lanciarlo durante il bull market e fare tre volte più vendere. Cioè tu eri pronto durante il bull market e hai scelto di non farlo? Non l'ho fatto. Di non lanciarlo? Non l'ho fatto. Ah, beh, fino a provatario ti credo, eh. No, no, sé. Già da lì, diciamo, che c'è già tanta gente. Io l'avrei lanciato durante il bull market? No, perché io ero l'unico che, tipo, il 21 novembre diceva a tutti di vendere, capito? A novembre? A novembre 2021. Ah, 2021. Quando il mercato era al massimo. Ok. Poi c'erano tutti che lanciavano corsi sulle crypto, su tutte le cose. E già tanta gente mi diceva di vendere questo corso perché volevano imparare le strategie. No. Come si è svolta la vendita del lancio? Allora, non ho fatto webinar, non ho fatto ads, non ho fatto pubblicità, né niente. Come l'hai venduto? L'ho venduto esclusivamente ai miei follower che mi seguivano da più di tre anni. Tipo 3.000 follower. Sì, cioè 3.000. Quelli fidelizzati, diciamo. Sì, follower, persone che mi conoscono benissimo. Tu hai fatto tanto content prima, gratuito, no? Hai spiegato le cose, quindi sei posizionato. Io non è che facevo content. Io ho un gruppo Telegram dove faccio le mie analisi, dico i miei pensieri sui mercati. E di solito, cioè, ci azzecco spesso, insomma, perché uso delle strategie che... Vabbè, studi, dici. Vabbè, insomma. Ok, ok. E quindi non ho venduto a persone nuove, non ho fatto webinar, niente di, diciamo, quello che ti descrivi di fuffa, diciamo. Sì, sì, sì. Vabbè, per me... Ok, ok, no, finisci, finisci. È stata una vendita fatta a persone solo che mi conoscevano da tanto tempo, capito? E mi piacerebbe creare un confronto costruttivo su quello che hai scritto te, anche sul discorso della landing page, perché quella è l'unica cosa che io non ho fatto e che ho delegato, capito? E quindi da una parte ti do ragione, perché è una landing page molto, molto simile a tanti guru. Però, capito, secondo me, criticare una persona dalla landing page, cioè, diciamo, ti sembra... Allora, il problema è che nel marketing, ragazzi, non ve lo devo spiegare io, no? La copertina del libro è importante. Ok. La copertina del libro è proprio... Si studiano le copertine dei libri. Io ti do completamente ragione, però... Però poi dico quello che puoi fare tu dopo, su questa cosa qua, se ti dico, io ho un altro pensiero. Io voglio proprio un confronto costruttivo, eh. Ma vuoi sapere che... Ma anche magari su quello che hai stato scritto. Hai scritto, hai scritto, io cito testualmente, dai vi prego, font, prezzi super scontati, solito profilo e G-clone, money nel nome del corso. Quali altri elementi servono per non dare mille euro a questo tizio? Ah, setta, setta, un attimo, money, spiego perché c'era. Praticamente il corso si chiama Smart Money Academy. Smart Money è un concetto di cui si parla negli investimenti e proprio il corso è fondato su quello che il 90% delle persone perdono soldi sui mercati perché ragionano sulle emozioni e se te capisci questo discorso e ragioni al contrario puoi diventare, tra virgolette, uno Smart Money. E quello era il motivo, non money per attirare il copywriting. Sì, sì, ho capito, capito. Capito, capito. Cioè, come fa? Come mai il font? Esatto, io penso che non abbia un esso logico. Il look and feel grafico. Il look and feel grafico. Cioè, quando tu arrivi su una pagina, una landing, l'impressione che hai... Ma questo è puramente soggettivo, Germano. Però mi hai detto, non metto mai su Fufflix una persona se non so chi è, se non so cosa fa, però l'hai messa e hai cominciato. Certo, lui. Io non ce l'avevo messo a lui. No, no, non l'ho messa io. Io gli sposto dopo aver visto a lei. Vabbè, ma questo, diciamo, è relativo, perché io non la metto mai. Però, qui, tu mi hai fatto la domanda al trabocchetto prima, ti sei mai... No, 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 no. Non c'era d'accordo su questo. Ti è mai capitato di aver sbagliato un giudizio su qualcuno? È questo, eh. Perché gli altri dicevano, oh, mai nella mia vita, assolutamente. Io ti ho detto, guarda, che io dico di no, però non posso essere certo, perché ci possono essere errori di valutazione, soprattutto quando li fai in maniera rapida. Però, qui, io non sto dicendo, non sto valutando la persona, sto sconsigliando di dare mille euro alla persona per come ha comunicato e per come si è presentato. Dopodiché... Secondo me è sbagliato questo. Molto grave. Sì, ma se lui può intervenire sotto quel post o farne uno nuovo e dire, guardate, vi ricordate, questo è capitato già, è capitato una volta, non mi ricordo precisamente qual è il caso, però mi ricordo, è capitato questo. In riferimento al post dove Milite diceva questa cosa qua, il corso che noi abbiamo fatto, mi pare, che era con i ragazzi di, se non spiego, di Plutonis, che pure facevano roba di trading comunque, loro hanno pubblicato il post e in realtà ne sono usciti bene. No, io infatti avevo... Io su questo non te lo censurerei mai, capito? Il post è stato cancellato dopo 30 minuti, Ah, ecco, io manco lo sapevo. L'aveva fatto... L'autore l'ha cancellato. Allora, un ragazzo di Grosseto, che tra l'altro mi conosceva, e il suo fratello voleva comprare il mio corso, insomma, lo conosco benissimo. E lui ha chiesto a noi perché voleva un... Capito? Io dico, a Grosseto mi conoscono tutti, cioè, lo vai a chiedere su Fuflitz, dove... Lo poteva chiedere a te e a te, dici. Capito? Vabbè, però, ti posso dire, non me la prendo con lui, perché magari ci sta che lui voleva avere un riscontro, però questo tema che abbiamo sollevato in realtà è molto importante, perché... Posso fare una premessa un attimo? Io, nella vendita del corso, potevo anche non mettere la landing page, e avrei comunque venduto un sacco di corsi uguali. Ma voglio sapere a chi l'hai data, voglio che mi dici il nome, però per curiosità. Sì. Sono personaggi, agenzie, diciamo, conosciute, sono altri che potrebbero guardare come Gucci, sono il mio curiosità. Allora, è un ragazzo che ha fatto landing page, anche a personaggi... Che hanno convertito molto, immagino. Sì. No, io in realtà... Non sono prima, che certe robe funzionano. Io in realtà, tra l'altro, ci ho anche litigato con questo ragazzo, perché l'ho pagato 2000 euro per fare la landing page. Vabbè, vabbè. E secondo me non ne valeva, diciamo. Abita in... Codice fiscale. E andiamo... Va bene, quindi il tema... Immagino già... No, insomma, il tema principale era... Cioè, è che poi si ritorna alla domanda iniziale. Cioè, su Fufflix, cioè, face... Chiunque viene messo su quel gruppo lì, c'è effettivamente una valutazione ben specifica o comunque si butta lì dentro e... Non è controllabile. Sleghiamo cani. Cioè, quello voglio capire. Sono me, come ha detto lui, c'è persone e persone. Però è un pensiero che faccio io che sono me, come in tutte le cose, c'è il bene e c'è il male. Io non voglio dire che so il bene e non è pubblicità assolutamente. Perché, ritorno all'origine, cioè, quello che dicevo qui, Fufflix, secondo me, è nata come una cosa stupenda, meravigliosa, con una missione ben precisa e è un po' quello per cui è nato Gurulande. Cioè, smascherare chi truffa, fa truffe online, chi è un fuffaguru. Sì. Che per me... Io sono d'accordissimo su questo. Il problema è che, secondo me, ormai, diciamo che, a prescindere, chiunque magari vende un corso online, viene buttato lì dentro e... Questa cosa no, ormai no, Non lo so, chiedo. Ormai nulla, perché in realtà, è chiaro che è aumentato... È quello che dà un po' l'impressione da fuori. No, no, ma, guarda, è un'impressione che ci può anche essere ed è, secondo me, anche fondata se tu ti, diciamo, ti fermi su determinati contenuti e vedi quelli e vuoi vedere quello. Poi sai bene che spesso tu le cose vedi quello che vuoi vedere. Ci sta, ci sta. Quindi no, tu già hai un po' quest'idea e la vai confermando, ma è normale, cioè, capita pure a me, non è che io sono immune da questa cosa, quindi ci può stare, però considera che è un gruppo dove ci sono in media 3.000 commenti alla settimana. È un gruppo molto attivo. Tanta gente. Ci sono 300 post alla settimana e sono, dipende, è una roba che gestisco io da solo, però quello che io cerco di fare è cercare una autoequilibratura, no? È difficile. No, ma ci sta, però. Ecco, la cosa corretta è questa. Magari io prendo uno sfondone, fossi il guru dei guru, se poi lui arriva e me lo fa notare io lo banno, c'è il suo. Voi non sapete neanche che lui esiste. Cioè, non sapete neanche che quella cosa è successa. Invece un giornalista serio che ha una deontologia, se prende uno sfondone oppure neanche uno sfondone, cioè una cosa la dice giusta, un'altra cosa è un po' meno giusta, o comunque è contestabile, no? Cioè, parliamone. Deve dare, ma è proprio previsto, eh. Cioè, non è una roba che io lo faccio perché so buono. Tutti è proprio la legge che dice se io, dico una cosa non corretta, non vera, e qui non ci sono cose non vere. C'è un parere sul quale possiamo disquisire e dire, per me è una cazzata, per me è un pregiudizio, oppure no. Mi hanno detto, ah, questo è il ladro. Non gli darei i soldi. Vabbè, quello è... Sei un giornalista, sai come fare. So come fare, certo. Però so anche che, appunto, se poi tu mi chiedi se io però vorrei replicare a questa cosa che hai detto perché non mi ci trovo d'accordo. Devi replicare. Eh, lo devi fare ma per legge. Non è che io dico, vabbè, sì, ok, te lo faccio fa perché mi piace. No, lo devi fare. Se non lo fai, è un aggravante in caso di diffamazione perché tu hai impedito, tant'è che se vieni condannato per diffamazione poi hai l'obbligo, ancora più forte, di inserire, addirittura qui è l'estremo opposto, addirittura la rettifica senza commento. Quindi, se io dico che lui è uno spacciatore di droga perché magari in buona fede la mia fonte è affidabile, ha fatto uno scambio di persona. Oh, ma era il cappellino. No, però il danno gliel'ho fatto. Quindi non è che poi si sa ah, io in buona fede, ok, in buona fede però il danno l'hai fatto. No, è come quando ammazzi qualcuno ma non è che lo vedi ammazzato. Però l'hai ammazzato. Quindi vengo, però non lo posso spiegare. Non posso dire, sì, guardate, io non è che lo volevo colpire perché lui mi sta antipatico, perché è un mio concorrente. No, ma perché è andata così. Cioè, non posso argomentare la motivazione del mio errore che su me è importante. Invece nel momento in cui tu dici no, non lo puoi argomentare solo dire che hai diffamato è un altro disincentivo a fare il nostro lavoro. Perché così come un chirurgo fa mille operazioni e ne sbaglia due ma che altro tu fai tre mila commenti e ne sbagli due e ne puoi sbagliare. Cioè, è impossibile. Tu come giornalista alle spalle hai comunque il sindacato e i giornalisti, vero? Sì, come i giornalisti in realtà in generale non soltanto gli iscritti. Vi aiutano molto in caso di querele loro. Allora, il sindacato per me è stato, come dicevo, fondamentale perché su tre querele io non ho ottenuto fuori un euro. Cioè, ho pagato la quota annuale di 60 euro ma considerate che io avrei speso più o meno nelle tre cause non meno di 7-8 mila euro. Cioè, tipo un'assicurazione per i giornalisti? Che non esiste. Ah, noi non abbiamo siamo, penso, gli unici professionisti che non hanno la possibilità di fare un'assicurazione professionale perché il commercialista e il revisore di conti può sbagliare fa un danno magari fa un danno all'azienda o fa un danno erariale e viene coperto l'assicurazione se si dimostra che non era in mala fede bla 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 ci sono sempre poi i cavilli che le assicurazioni o papà commercialista cercano di non pagare però almeno in teoria ce l'hai. L'assicurazione professionale per noi non serve cioè non c'è neanche in teoria non esiste quindi se io faccio un errore e faccio commetto una diffamazione e addirittura procuro un danno perché potrei procurare danni se diffamo persone e o aziende io me la devo vedere da solo ok fatti miei ma non nel pagare il risarcimento soltanto che lì uno potrebbe dire pure oh hai fatto hai sbagliato tu paga tu no anche le spese legali per difendimi dalle eliti temerarie lì ci vorrebbe una puntata a parte cioè gente che per ritorsione per imbavagliarti ti deposita una querela soprattutto in ambito civile anche se per fortuna con una nuova riforma è cambiata un po' sta cosa comunque prima io ti depositavo una querela come Scarcella che fece con me mi chiese 30 mila euro sono stato in ballo un anno e mezzo con sta spada di 30 mila euro sul collo che non sapevo come andava come andava poi ovviamente è andata che mi aveva dato di 3 mila a me salutiamo Mirko quando ti trovi a passata le parti da Versa ti offro una polacca e mi dai sti 3 mila euro ti aspettiamo a Gurulandia ti offro pure un pranzo e mi dai sti 3 mila e ero amici come prima non può quindi se io dicevo avrei speso me l'avrei buttati perché io non l'ho recuperato poi come fa a dirti mi devi 30 mila cioè deciso da chi è un giudice a se stesso la parola in francese al caso del cane ma non è tipo un atto intimidatorio diciamo però non ha alcun senso secondo me perché vuol dire magari fa paura la cifra a te ti arriva una lettera con questa cifra di 30 mila euro sì ma non sei un giudice vuol dire che cazzo vuoi cioè chi è che decide che il danno che ti ho regato quantifica il danno esatto quando tu chiedi nel caso c'è un perito c'è un perito di parte già provato periodo di parte tua che mi chiedi tu che sei lo scarcella di turno no ancora no in senso figurato che mi chiedi 30 mila euro e io che dico no guarda io il danno non glielo ho fatto manco di mille euro ma sapete come finivano queste cose alla fine che il suo avvocato veniva da me e ti senti visto che il processo può durare pure 15 anni non si sa non ha una scadenza poi in Italia sì non si sa facciamo così lui ti chiede 30 tu quanto io vuoi da 2.000 3.000 evitiamo di andare a giudizio così funziona a me me l'ha proposto io ho detto andiamo a giudizio io ho fatto a oggi secondo me il peggior processo che tu possa ricevere o fare è quello mediatico molto più che quello che sicuramente quello che ti rovina veramente secondo me ci sono tanti casi soprattutto ad esempio io penso sia proprio un'epidemia non ne parla nessuno le false denunce di violenza che vengono fatte spesso nelle cause di separazione ai padri una cosa io essendo mi occupato anche di padri separati di cause di divorzio ce n'è tanta questa roba di quello se ne parla pochissimo 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 tanti uomini si suicidano 200 uomini suicidi all'anno in Italia gli uomini si suicidano tre volte più delle donne non sto dicendo che siano tutti padri separati però tra i padri separati è particolarmente alto voi pensate un padre mi scrisse questa storia lui era in causa perché la compagna l'aveva accusato di abusi sulla figlia ma non era vero niente dopo 10 anni processi però tu immagini da padre già ti sei separato da tua figlia che non la vedi più e a 200 g di distanza in più hai lo stigma dell'abusatore di tua figlia e lei col dubbio che chissà se sarà vero la gente mi guardava anche se non c'era nulla la bambina non confermava è una risa della mamma però io ero uno che fino a è l'inversione dell'ora della prova quindi sì e qui non prego di un processo mediatico perché è una cosa anche a figlio in questo modo però il processo mediatico è lo stesso cioè io ti dico e infatti c'è una legge europea che è stata recepita ovviamente con i piedi in Italia sul diritto alla presunzione di innocenza cioè che dice che quando noi parliamo i media parlano a fronte di determinate questioni processi in corso anche le procure i procuratori i magistrati quindi e le autorità devono utilizzare un linguaggio che non deve far passare gli indagati per colpevoli non è per quanti anni abbiamo ascoltato il linguaggio politico avviso di garanzia avviso di garanzia per tizio dove avviso di garanzia che è un termine corretto però io ho anche ricevuto l'avviso di garanzia ok perché ero amministratore di una società per sbaglio un errore di persona come dicevo prima cioè non ero più amministratore da tempo l'avviso di garanzia si chiama così perché garantisce l'imputato dice guarda io sto per fare un'indagine su di te vuoi rilasciare delle dichiarazioni a memoria difensiva prima ancora quindi non significa che tu sei colpevole significa che e quando tu ricopri certi incarichi come amministratore delegato di una società come politico ragazzi è facilissimo che arrivi ad un avviso di garanzia che poi è aria fritta si che poi è aria fritta esatto però è milite avviso di garanzia è tuttanto sei milite avviso di garanzia poi vediamo e comunque sono sempre rotture di coglioni forse è quella però vi dico che purtroppo il processo mediatico che poi non è un processo almeno io cerco di non fare mai processi mediatici poi se avete visto qualche altro processo mediatico su Fufflix ne parliamo e che lo diciamo prima in macchina che se io ti querelo oggi perché tu mi hai diffamato o ti vuoi denunciare perché tu mi hai truffato per la giustizia italiana e noi l'abbiamo raccontato con Cerbero all'inchiesta che abbiamo fatto su Matteo Sabba per il caso Giba sono passati dieci anni il caso è andato in prescrizione pazzesco cioè questo non ha pagato niente pazzesco ma infatti non serve a niente capite tu dici ma io che denuncia a fare la diffamazione io ho denunciato uno che mi ha dato il pedofilo visto che non era reperibile è caduta allora tu dici io devo avere un'altra arma devo avere un altro sistema più rapido sempre equilibrato giusto senza mettere la cogna le persone tant'è che quando parlo dico quello è condannato perché c'è la sentenza no perché ok quindi è importante equilibrare le due cose perché la giustizia è quello che è lo sappiamo ai suoi tempi a volte sono infiniti a volte la giustizia è ingiusta proprio il termine sembra non stimo ma è così una giustizia ingiusta iniqua è quella mediatica che almeno allerta tu immagini uno che lo denunci per truffe non si sa niente per dieci anni questo viene pure prescritto questo continua a truffare l'infinito perché in galera ti devi impegnare per andarci in Italia e anche se ci vai ci vai un anno due anni poi ritorni e continui a fare quello che facevi prima quindi questa è la difficoltà del sistema chiaro ti volevo fare una domanda visto che siamo freschi freschi di Vanna Marchi e Stefania Nobile allora che ne pensi della frase che ha detto Vanna Marchi ora non so se la dirò esattamente come l'ha detta se uno è stupido è giusto fregarlo i coglioni vanno in culo io l'ho detto in maniera in maniera la porta io la sapevo diversa però è che ogni mattina si sveglia un coglione e noi dobbiamo coglierlo penso anche è un'altra frase famosa però sì quella è detto i coglioni vanno in culare lo dice nella vanno in culare di cazzo lo dice proprio con questa sua vocina tra l'altro qui c'è da qualche parte l'autografo e dopo ci dovrai fare anche te accanto proprio accanto sulla stessa sedia rendiamoci conto è vero spero l'abbia disinfettato comunque è una frase orribile una frase orribile è una persona che non ha morale che non ha etica che non ha scrupoli perché la posso capire e concordo guardate qua lo dico e lo nego in questo istante anche con lei su una specie cioè se tu trovi uno che pensa di essere furbo sa che tu stai organizzando una truffa a casca e ma ponzi partecipa e poi lo freghi allora là ci sono due truffatori uno è più furbo dell'altro e va bene almeno uno scontato a differenza di qualcun altro è libera che esiste il diritto a tolerare i consumatori proprio per questo perché attende di andare a giungla dove il più furbo frega esiste la circonvenzione di incapace esiste la obbligazione gannevole proprio perché ragazzi il rapporto commerciale anche tra aziende si basa su un rapporto proprio una base della della branca giuridica che riguarda il commercio insomma lo scambio di beni e servizi su un rapporto fiduciario cioè io mi devo mi fido di te che mi stai vendendo quel servizio a quel prezzo fino a prova un posto di ma chissà questo sarà un truffatore fino a prova contraria se no non puoi comprare più niente non puoi fare più nulla e se ti vieni fregato è colpa tua è un po' non è lontano da dire le ragazze che girano in miniconna la sera e vengono violentate chi l'ha detto a loro di girare in miniconna la sera peggio per loro sono state svergognate sono state poco attente e quindi se lo sono meritato è uguale è molto simile come discorso quindi non concordo ci sta secondo te i fuffaguru di oggi sono un po' i vannamarchi di ieri trovi delle somiglianze assolutamente sì molto più sfigati perché lei ha fatto i miliardi a pensare che i miliardi li sogna la notte fa quella cosa io se ti ripeto che ho un milione in banca ce l'avrò quindi questi sono dei wannabe vannamarchi quindi sfiga da sfiga cioè già vannamarchi ovviamente è un tipo delle persone che io posso stimare questi vorrebbero ma non possono vorrei ma non possono vorrei ma non posso che in realtà noi dovremmo sostituirlo con il potrei ma non voglio che è molto più da persona centrale potrei fare sta roba ma sono elegante se il coronate lasciamola fare i cafuni arricchiti a me frega il cazzo e invece è quella tutta gente che vorrebbe ma non voglio e alla fine un tema importante e anche affascinante è quello dell'evoluzione del pensiero magico quello di vannamarchi è il pensiero magico il pensiero magico per cui io che conosco i numeri il mago di nascimento oggi sono i nuovi mago di nascimento ha dei poteri conosce i numeri te li dà a te potere di scappare a Brasile pensa tu questo mago di nascimento che generosità sa i numeri dell'otto ma invece di giocarsi di lui e fai milioni chiede 100 milioni a te è già questo oggi si è evoluto mentre prima ancora prima era anche più mistico c'era la magia c'erano i druidi i sciamani che facevano le pozioni no no dimmi c'è una redazione che gli dà il permesso di fare questi programmi perché si incolpano le persone che conducono il programma e non le redazioni ma puoi incolpare entrambi l'una cosa non escude l'altra attenzione perché Vanna Marchi e Stefania Nobile acquistavano lo spazio televisivo quindi la redazione se ne usciva fuori essenzialmente i tempi era così ora non lo so però in teoria lui dice una cosa sensata dice io che sono ti vendo lo spazio ok posso essere uguale te puoi venire qua mi affitti la stanza poi quello che fai nella tua stanza io mica posso controllare se tu vendi le pozioni di sciogli ma non è giusto eh capito eh 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 sì ma per me dovrebbe essere corresponsabili ad esempio anche quelli che propongono i schemi ponzi tu li uccideresti analisi guarda se tu proponi un ponzi e il ponzi salta quanto hai chiesto ai tuoi amici e parenti 15.000 di venire forse non dovrebbe essere legale proprio a prescindere ma quello non lo è ma anche quando fai tipo fit line o altre cose sì ma quello in teoria non sarebbe legale però tornando al fatto del pensiero magico no prima c'erano i druidi e gli sciamani ti facevano le pozioni diventavi bersenka ecco questa diventerà invincibile c'era anche qualcosa di nobile non Stefania ma di nobile nel senso che io ti preparo a vincere contro il nemico no invece oggi ci sono questi druidi che preparano le formule e dicono ma io ho fatto l'altra volta per esempio ho fatto una consulenza di un'ora e Marco ha quadruplicato il fatturato ho dato un trick chi è questo che lo fa che lui per 10.000 euro è un grandissimo amico che ho invitato in confronto io li possiamo fare i nomi sì se lo so è Big Luca Big Big io ti rinnovo il confronto se vuoi l'invito anche perché sono sicuro che sarebbe un bel confronto io lo dico sempre non è che faccio i confronti perché devo saltare al collo devo massacrare asfaltare dobbiamo discutere anche animatamente contestare come adesso avete fatto voi anche prima con me però non è che dobbiamo fare ad esempio Big secondo te è un fuffaguru oppure no questa è una domanda per molti versi lui esprime pompa espande fuffa ma più non posso i modi cioè parlai di fuffa nel suo caso secondo me è anche un po' limitante perché lui è più sofisticato è più evoluto del guru medio no ha sicuramente una cultura più ampia io dico sempre studiare l'esperienza perché c'è da più tempo è un po' più grande è un po' più un po' più grande qualche anno in più di solito il guru medio e poi ha dei contenuti è un grande è un grande paroliere lui è un grande comunicatore un grande comunicatore molto bravo se gli lasci spazio lui di mettere l'angolo è insomma come un pugile ti colpisce devi avere sempre la guardia alta con lui non ti puoi devi stare al centro ring però sì c'è molte robe lui poi gioca su questo fatto che dice delle robe talmente ridiche no è più un milanaro di Dubai vabbè però sempre tra il serio magari poi lo dice ma chissà lo pensa su se veramente lo è no gioca sempre su questo equivoco perciò lui a volte mi criticano mi criticano perché vedi poi tu prima mi avete giustamente fatto notare però vedi tu sei stato duro con lui l'altra parte c'ho gli estremisti dalle bani ma tu big luca sei amico suo perché ti sta simpatico non lo distruggi non lo massacri ma io non è che devo massacrare cioè dico delle cose di luca che non mi piacciono per niente per come comunica quando dice non si abbassano mai i prezzi poi lancia il corso a 37 euro per dire che ho comprato il corso a 37 euro allora quando tu sei così incoerente e poi la cosa che ho contestato a tutti ne parlavo anche prima ragazzi è il suo fatto di diventare esperti di qualunque cosa in un mese questa la confermo anche io qui siamo tutti d'accordo assolutamente l'avete anche detto voi questo è un campanello d'allarme di un vero sai secondo me qual è il problema dei fuffaguro che ora c'è questo trend che diciamo si vive di lanci quindi ogni mese esce un corso su un argomento diverso secondo me quello è il problema perché secondo me se poi c'è una persona che da 5 anni 6 anni fa una cosa diventa bravo e la insegna allora lì ci può essere sempre la fuffa però scusate ragazzi ma io ho il lancio del mio corso come si mette un piede dopo l'altro è vero quello lo condivido step by step che anche l'anno scorso c'era un mese che era esperto di cripto un mese esperto di investimenti un mese chat esperto di ragazze ah ragazzi si cioè capito poi magari assume esperti che fanno il corso già lo so ma io delego io delego il corso si però nella pubblicità io ti vedo e tu ti presenti ora non parlo di Luca De Stefani nello specifico ora tu ti presenti come esperto di cioè fino a ieri eri il mago del dropshipping poi il self publishing poi l'intelligenza artificiale poi le NFT cioè se prendiamo per esempio Luca Valori no? e Luca l'ha fatto tutto cioè Luca è partito dropshipping prodotti digitali che voi conoscete bene si un quarto d'ora Luca eh prodotti digitali cripto ha durato poco si si è vero quel corso però non lo ritirai dal mercato eh cripto NFT devo fare la tua NFT immobiliare fitti breve immobiliare adesso che c'è il self publishing è ritornato al self publishing si ho visto mi è arrivata una media il self publishing ma perché poi è ciclica capito perché la gente poi ha dimenticato ah riparte si rinitza no però questo contraddice anche la famosa una delle loro cavali di battaglia ma noi lavoriamo perché ci piace ma siamo in pensione cioè fondamentalmente io Luca pure dice spesso ma io ormai sono pensionato però sei sempre affalanci cioè non lo so ma vi piace così tanto non lo so io cazzeggerei di più ma secondo te Germano perché continuano a fare tutte queste vendite nonostante c'è questo discorso no? che ogni mese c'è una cosa di cui sono esperto cioè una cosa nuova come mai fanno sempre tutti questi soldi? ovviamente qui parliamo eh sono le mie opinioni ecco non scrivo bibbie come il buon micco che ho sentito quindi non è che la mia bibbia possiamo possiamo contestare quello che sto dicendo è la mia visione secondo me è innanzitutto perché hanno un posizionamento di mercato fondamentalmente debole e rivolto agli opportunity seeker cioè loro sono autocondannati a quella nicchia lì quindi tu se sei condannato a quella nicchia lì devi fare sta roba cioè non puoi vivere veramente di rendita e avere un prodotto lifetime o due prodotti lifetime devi sempre in metà cosa nuova creare l'hype creare la novità adesso ti fai i soldi con questa cosa nuova perché sei in cerca di quella gente lì ok? di gente che ha bisogno che tu gli dica quella cosa là e quindi questo è fondamentalmente il motivo allora sono a te ti sbagliamo noi a vederlo sotto lo stesso tetto cioè magari è un modello di business diverso ecco sto dicendo che faccia schifo sto dicendo io non lo farei non mi piacerebbe mi annoierei però per rispondere alla tua domanda è per quello secondo me cioè perché tu vendendo poi opportunity seeker che spesso ti danno i soldi e restano delusi perché cado troppo hype e quindi rispetto all'aspettativa io sto deluso oppure è gente che è proprio recidiva cioè c'ha bisogno a intervalli regolari di illudersi che può svoltare con un corso online che io non so come non so se c'è un caso al mondo che veramente è gente che ha svoltato ma svoltato vuol dire no che si è messo a fare corsi a sua volta perché un altro grande tema che diceva Luca De Stefani che gli contestavo e lui dice io faccio consulenze a tutti i tipi di imprenditori io sono anche questo sono esperto chiunque faccia business online viene da me perché io ho dei segreti del marketing ragazzi il marketing non c'ha segreti da cent'anni più o meno è sempre quello poi cambiano gli strumenti i tempi i modi c'è Facebook che non c'era prima c'è Google però quello è non è che ci sono i segreti del marketing in realtà secondo te i soldi li fa solo chi vende corsi essenzialmente lui no nel suo modello il modello di Luca De Stefani è produrre altri cloni cioè se voi vedete sono tutti uguali quello è vero vedete i suoi casi studio di successo Play Lover che fanno vendono corsi Magorick che fa vende corsi Colà il falso laureato Filippo Colà il trainer che prescrive abusivamente vende corsi poi tutta gente che fa roba che potremmo anche vedere C'è Arnao Arnao mi sembra Arnao fa i corsi li fa bene ma questo perché avevo detto prima perché sono prodotti prodotti digitali grande ma che no tra l'altro vendo anche io come sapete prodotti digitali anche se non non mettendoci la faccia diciamo gli vende la mia azienda però è questo il punto cioè che io dico non che sia criminale ma dillo cioè non è che è sbagliato tu puoi dire guarda io sono il produttore di infoproduttori sono quello che sforna la fabbrica dei guru tanto è anche quello là non dico Roberto come si chiama quello di Tom's Hardware fare l'info imprenditore vendere corsi è una cosa legit ormai basta aspetta ma attacco al discorso un attimo perché prima dicevi do nascimento perché doveva dare i numeri della lotteria se poi se ne potete giocare lui è un discorso comune che ho sempre visto su Fufflix è che dicono se uno ha un segreto sa fare bene un business perché lo dovrebbe dire a tutti tu non sei d'accordo dipende come hai detto per esempio ho lanciato il corso sulle cripto perché io se poi insegno le mie strategie non è che a me mi leva qualcosa nessuno è diverso allora alle cripto se tu vedi perciò è sempre diverso è complesso non c'è mai una risposta sinca allora nel tuo caso tu dici appunto io non mi creo dei competitor perché anzi anzi il suo interesse è far magari riaumentare l'interesse sul mondo cripto non lo potrei mai fare non sei Elon Musk ma manco se fossi Elon Musk però a te quello non crea dei competitor quello che noi contestiamo che io contesto è tu hai trovato il modo per fare i soldi con l'e-commerce ma perché perché lo devi vendere a mille euro quello non ha perché lì ti stai creando un competitor diretto però capito se te sei un imprenditore io la ragiono in questo modo te punti diciamo a massimizzare i profitti in modo etico sempre parlando non dei fuffagulli quindi creare un business accanto al tuo business principale cioè non vedo cosa ci sia di male cioè magari ti crea più competizione però hai visto quanti soldi ci sono dietro ai corsi no? si capito? perché poi il discorso è quello è una diversificazione delle entrate l'infobusiness questo è quello che mi dico mi rispondono sempre però l'infobusiness rende tanto comunque vendere un corso è un prodotto digitale se lui lo vende a mille euro in organico a mille euro profit si ma quanto riesce a vivere costo mille euro faccio una domanda a voi provocatoria faccio a te faccio a tutti vendere in maniera noi diciamo la parola etica ma anche borderline ok? non voglio fare la sua ora di clausura vendere porta i soldi precisa diciamo legit ok? pagando le tasse in Italia bla 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 e tutto il resto anche questo è un discorso che bisognerebbe affrontare bisognerebbe affrontare non è che sei un criminale se vai in un pari soffiscare un pari di tasse di cazzi ma dopo trattiamo anche anche se non posso gentilmente dove io non vivrei mai quindi vai a vivere ok non è quello il problema però dico se tu vendi sto corso a chi sta in Italia o gli dici guarda devi venire qua amico mio per fare quello che faccio io per fare i numeri che faccio io a replicare e avere i margini che ho io perché è chiaro che altrove non ce l'hai ma nessuno gli dice devi fare quelle cifre cioè io le faccio tu le puoi fare non le mie poi sotto in picco c'è scritto attenzione non garantiamo che i risultati no? quelle paracurate ma come anche le macchine si disse la stessa volta la scorsa volta l'altra volta anche le macchine non so se avete letto forse hai letto il mio posto ah si dell'alfa ragazzi la fu cioè le sanzioni per pubblicare ingannevole le prendono soprattutto le multinazionali cioè da grosse però tornando al discorso che se no ci perdiamo no? ma perché io non posso diversificare il business allora io penso che chi fa soldi veri con l'infobusiness ti ricordi come ti ho detto il discorso del doping li fa in un certo modo fare soldi veri con l'infobusiness venduto non agli opportunity seeker non fregando la gente non facendo false promesse e landing truffaldine con finte recensioni è molto complicato me lo potete confermare è anche molto complicato gestire la gente dopo che ha comprato il corso soprattutto se hai dato delle aspettative alte ti rompe i coglioni in una maniera incredibile quindi se il tuo core business è e-commerce e vi dico facendo e-commerce da sei anni non hai il tempo di fare il corso cioè io vendo un software sto facendo un software con intelligenza artificiale per il fotoritocco ma a me chi cacchio me lo fa fare di fare un corso per spiegare agli altri come fare però stiamo nel discorso quello anch'io la penso sì dicono che sono abbastanza bravo nelle facebook ads però non è che faccio un corso sulle facebook ads non ho voglia di rompermi i coglioni con le persone però quella è una scelta personale io invece lo voglio fare lì non si può contestare però capito secondo me si tratta di monetizzare in più modi le stesse conoscenze quindi magari te con e-commerce fai i decorsi ti aggiorni esempio di me con le crypto io studio le crypto mi informo oltre che usare le informazioni per farci soldi per conto mio le condivido con le persone quindi per me non è doppio lavoro è semplicemente usare quello che già so nel tuo caso infatti ci sono sempre ragazzi delle eccezioni ma io dico anche in generale magari su ci sono sempre delle eccezioni possibili io dico che nella maggior parte dei business io faccio web agency devo seguire 40 clienti mi metto a fare il corso per aprire una web agency io sono dell'idea che il 95% delle persone che fanno info business il reale guadagno ce l'hanno solo esclusivamente dall'info business e non da ciò che insegnano quello è vero questo diciamo però possiamo dire io per esempio ragazzi io insegno a vendere prodotti digitali per me il corso è uno dei miei prodotti digitali manco cappelli la landing me la mandi te la mando voglio mandarti anche l'accesso al percorso formativo così qua proprio qua ci massacro se l'hai venduto se l'hai comprato mili te vendi prodotti digitali si infatti può servire posso dare assolutamente un feedback può essere illuminante ma al di là volevo riprendere proprio questo questo discorso qua tu pratichi e-commerce insomma quindi nell'oggettività al di là del guru che trovi diciamo quello è il guru eccetera eccetera però riconosce che sono modelli di business che oggettivamente comunque portano dei risultati cioè fanno fare cioè non criticate il modello di business criticate il coglione che fa posso criticare il modello di business io lo faccio io critico il fatto che tu dici il marketing ingannevole ma giustamente volevo specificarlo perché magari hai fatto bene perché c'è gente che magari non te lo afferra quello dice offende quello che fa i com e poi lui fa il e-commerce ma si risponde da solo sarei schizofrenico dovevi andare a fare una un'apilizia psichiatrica no però dico io qual è cos'è che contesto proprio perché so quindi a maggior giro so come funziona so quanto è difficile quanto è costoso sempre di più che skill e esperienze richiede di base è chiaro che in albero se vedo che uno dice tu proprio tu impiegato del catasto fino a ieri che c'hai 58 anni con 1000 euro di corsa a me 2000 euro di ads ti fai il prodotto digitale e campi di rendita e guadagni 15 mila un quarto d'ora all'anno si dedica un'ora al giorno ma ragazzi ma voi dedicati un'ora al giorno a queste cose avevo visto una sponsorizzata di pig no no io so dell'idea che nel business devi rinunciare a tutto per aver successo ma questo lo diciamo sempre però giustamente dice c'è persone che fanno sognare altro e quello è vero e fanno i soldi con quello cioè non con l'e-commerce perché se io ti dico no l'e-commerce non te lo posso far vedere se no me lo copi ma anche lì cioè cazzo allora qualunque imbecille si svega la mattina ti vede e dico lo copia senza copia e ti frega il business allora il tuo business non esiste cioè la barriera dell'ingresso è zero io i miei e-commerce li ho fatti vedere li mostro tu li conoscevi li conoscono tutti c'ho anche gente che va a fare analisi ovviamente perché poi ma non ho paura di niente non ho paura che mi copi l'e-commerce ma che paura ti avevo ma voglio dire quanti c'è ne vende le scarpe quanti negozi c'è ne vende ti voglio chiedere visto che ormai insomma sei forse il massimo esperto di fuffologia italiana sì quali sono gli elementi chiave o comunque quelli che proprio dici ok questa è fuffa cioè da cosa bisogna stare sempre molto 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 attento questa è la domanda che mi fanno tutti a quale risposto certo risposto tante volte i font i prezzi il colore verdolino fluorescente sul nero queste cose per scherzare ma io ne ho ragione sono delle campanelle più piccole e campanelle più grandi a parte gli scherzi qual è secondo te veramente il marketing scorretto e poi mi allaccio anche a un'altra domanda quindi mi fai una doppia risposta qual è secondo te il marketing etico cioè se tu dovessi vendere un videocorso un percorso di formazione sì in un modo etico come lo venderesti cosa scriveresti nella lenda ma in realtà Scoop in esclusiva Grulandia abbiamo già venduto dei corsi dei videocorsi per fotografi con un ragazzo molto in gamba che ha molti follower che sa lavorare molto sui social quindi lui ha molti follower su tiktok e instagram è un corso che era proprio come posizionarti come fotografo su tiktok e instagram quindi come l'ho venduto non dicendo attenzione diventa il miglior fotografo dal fotografo più pagato al mondo su instagram e telegram magari è un mio limite ok è la mia idea un tuo milite è un mio milite esatto io il corso del genere lo l'hai detto il corso del genere un corso del genere lo venderei i corsi venderei ai ai professionisti o comunque a chi vuole iniziare a professionalizzarsi però che leve di marketing useresti diciamo perché nel marketing si usano delle leve no? la urgency la scarcity cash ultimi 20 cash business ultimi 20 posti e poi non è vero posti online no io queste robe non le ho mai usate devo dire devo dire anche un'altra cosa ne approfitto mi ha dato un assist ti ricordi il doping che dicevamo prima se io metto la scarcity e dico ultimi 20 posti l'offerta scade tra 24 ore col fake counter che poi si rinnova ragazzi io vendo molto di più è marketing ve lo firmo non è marketing è presa per il culo dal genere no perché è marketing no il fake counter cioè il fake counter è quello per cui è stato multato però secondo me il fake counter non è non etico e che cos'è non è non etico e cos'è ultimi 20 posti è cazzo in mano il poltrono in sua faccia ha fatto un impero è stata è stata è stata sanzionata non la dire sta roba agcm antitrust no a me non mi interessa no no però a parte i scherzi cioè un conto non etico è guarda compra il mio corso e tra due settimane ti puoi comprare anche te questa Ferrari questo non è guarda facciamo un gioco leviamo mano come diceva levam mano leviamo mano all'etica l'etica è un concetto filosofico che tende al bene lasciamo stare il marketing etico legale ok trasparente coerente come dobbiamo dire non ingannevole ok non puoi dire se tu dici a lui guarda che i posti stanno finendo ce ne sono solo 10 tu lo stai forzando lo stai manipolando lo stai forzando a fare una scelta la quale poi magari si pentirà perché stai spingendo tutto sulla sua parte emozionale ora senza prenderci per in giro però non è quello il marketing alla fine il marketing è sfruttare la nostra parte emotiva non prendiamoci in giro noi acquistiamo perché qualcosa ci emoziona se stiamo a razionalizzare ogni acquisto noi non ma tu per esempio quando vendi i pannelli i pannelli photoshop nel tuo store di prodotti digitali hai un prezzo di confronto un prezzo reale ho un prezzo di confronto che non so invece di 49 però non è un prezzo che costa 380 e te lo vende a 20 il prezzo è 49 e te lo vende a 20 perché il prezzo è vero è marketing però è quello è un prezzo al quale ho venduto il prodotto non è un prezzo inventato ciò metto 289 non l'ho mai venduto quel prodotto 289 lo metto perché così faccio un confronto e tu hai l'illusione anche perché queste robe oramai la gente è anche un po' abituata a se fatta secondo me non c'è niente su fake counter o sulla finta urgenza anche su ultimi 10 disponibili e poi li dobbiamo a peper non è vero e ragazzi quello da codice però non si può fare poi che si faccia la facciano un po' tutti e che funzioni io lo dico sempre un certo tipo di comunicazione e il marketing è comunicare le emozioni ma per questo il marketing di alto livello lo possono fare poche persone perché servono delle competenze degli studi una cultura talmente ampia che non ti fai che cazzo ci vuole a mettere un fake counter lo può fare chiunque però urgenza in generale a parte del fake counter alla fine urgenza i scarsi ti la usano tutte le grandi aziende tu fai anche le macchie la promozione scade ma l'ho fatto anch'io io per esempio ho messo in promozione il panel al 50% da lifetime per tutto il mese di dicembre però poi a gennaio il prezzo è cambiato non è che è rimasto lo stesso vabbè devi essere corrente devi essere corrente ragazzi costa devi investire di più e perciò poi odio questo modo di fare perché ti costringe che se tu non lo fai come parlavamo prima c'è concorrenza sleale perché se noi operiamo nello stesso settore tu bari tu ti dopi perché il marketing la pubblicità ingannevole è il doping della comunicazione quindi io col doping sfido chiunque di voi noi facciamo una gara nessuno di un alleato io mi dopo pesante mi straccio ho vinto però come ho vinto ho vinto col doping ok per questo è illegale non perché per questo che funziona troppo bene chi non vende eticamente vende sempre di più di chi vende eticamente molte volte stiamo generalizzando però attenzione abbiamo anche un messaggio forbiante se tu vendi come Faguro vendi ma non è un posizionamento stabile vendi sempre dipende dalla nicchia dove tu ti vuoi mettere allora vuoi vendere gli opportunity si esatto devi sì non puoi andare dal make money che vuole tutto e subito e non sulle impegnare a dire no non gli puoi neanche dire non vedi è come andare da ogni fatti studia no lo puoi dire non glielo puoi dire palle subito però è il target allora se io decido perché sono più capace di dire io non voglio questo target qui io voglio un target di professionisti che non devo fregare non devo fare emozionare non devo creare quest'hype cioè io creo in quello che serve creare un hype cioè anche quando tu vedete la presentazione della nuova Canon Mac 3 bella presentazione figa cioè si arrapa il professionista però con questa macchina tu prenderai e volerai nello spazio e fatturerai il 400% di più non è quello il tipo di comunicazione quindi se ci rivolgiamo agli opportunistici che è il sì e per questo anche dico non farei mai quel tipo di roba là perché dovrei fare comunicare che se non comunichi così non dico che non vendi ma sicuramente vendi molto meno ma anche in televisione con le pubblicità come si diceva prima delle macchine cioè se loro ti dicono però poi la produzione cambia di poco magari magari il trick è che ti faccio cambiare una rata l'anticipo in genere è così vieni 150 euro al mese e hai la macchina per 3 anni ma quella per me è stanzionata poi in basso c'è scritto mi devi dare un rene la macchina vecchia eccetera eccetera se loro dicessero vieni qua con la macchina vecchia e 8 mila euro in mano e ti porti la macchina a 100 euro a quel punto ne vendono zero ma non lo so non lo so perché anzi se tu fai il cliente va lì si arrapa vede la macchina e vai quanto è? 500 euro al mese non lo posso fare ma fallo uguale vai va bene questo non lo so dobbiamo avere dei dati chiaro dici se lo continuano a fare perché funziona però spesso tu fai delle cose pensando che funzionino non finisco non elaborando una strategia che è ancora migliore perché ti rilassi su quei risultati ok questo ha funzionato lo continuiamo a fare perché dobbiamo cambiare ma secondo te c'è differenza invece tra chi dice io guadagno tot e chi dice i miei studenti guadagnano tot o è la stessa identica cosa no non è assolutamente la stessa identica cosa chi dice io guadagno tot crea cerca di creare un meccanismo di riflesso dire io guadagno tot se tu studi da me probabilmente puoi guadagnare così però chi dice i miei studenti li per me è peggio perché tu stai dicendo una roba e tra l'altro non puoi dimostrare perché tu devi dire ok dimmi fammi vedere i 7.30 creazione dei redditi e così è ma è così è cioè se io dichiaro le emissioni di una macchina che la macchina fa 180 se qualcuno mi chiede le prove io ho la prova che lo fa che ho fatto nella galleria del vento i test e lo sono ma se io dico che lui ha guadagno 20.000 euro boh sto dicendo io che lui ha guadagno 20.000 euro che cazzo lui potrebbe essere un mio complice ragazzi gioco delle tre carte sapete come si fa a Napoli gioco delle tre carte c'è quello che con i complici che vincono se vai a Parigi sotto la torre Eiffel ora è pieno vincono c'è il complice vince ho vinto è d'accordo poi è forte perché sono tutti tutta la gente con 300-400 euro un contatto c'è gente che ancora ci casca voglio dire quello passa ci cascano turisti quindi non lo so io ti fido fino a proprio contare dove stanno i 7-30 creazioni come mi dimostri che stanno guardando grazie al tuo corso se no quello è fuffa allora qualsiasi caso studio che ci viene portato nel mondo perché io qualsiasi caso studio che ho visto anche quello di Coca-Cola non mi ha fatto vedere i 7-30 tutta sta roba cioè è sempre stato a chiacchiere così sul caso studio di Coca-Cola però sul caso studio a parte che nessuno fa vedere non sono un fan dei casi su delle agenzie no no io dico poi faccio generico no cioè alla fine nessuno fa vedere la carta che conta capito poi si fermano tutti più che altro nessuno fa vedere il 7-30 per altri motivi lo dico ma non te lo faccio vedere quello che guadagno non te lo faccio vedere no però insomma l'esempio Coca-Cola è un po' forzato perché a parte Coca-Cola è Coca-Cola quindi ha anche altri controlli cioè se Coca-Cola sgarra come abbiamo visto se le aziende che hanno un nome sono identificabili non sono scappate in culoni e via dicendo sbagliano spesso sono sanzionate guardate le multe che ha preso anche Facebook per esempio ultimamente venne sanzionato da antitrust Facebook perché diceva nella comunicazione è gratis e lo sarà per sempre ma in realtà per l'organo non era proprio vero perché c'era uno scambio di valore dove tu ti vendevo i dati quindi non ero preciso si carica il prodotto alla fine esatto come si dice se non paghi il prodotto sei tu quindi addirittura a volte quasi da dole ti vanno a farsi le pippe tra virgolette su certe cose senti allora volevo fare un discorso un po' ampio che l'ho fatto già in diverse puntate per capire un attimo il tuo punto di vista praticamente parlando magari di ragazzi giovani che escono ora dalla scuola e avere un attimo qual è il tuo parere a riguardo delle migliori strade da fare in Italia dal 2002 gli stipendi sono sempre gli stessi mentre invece se fa conto prendi i dollari o comunque anche gli euro si sono svalutati tantissimo negli ultimi 5 anni sono stati stampati la metà dei soldi che ci sono adesso e tutto quindi se fa conto nel 2002 guadagnavi 1600 euro adesso è come se guadagni 400 euro quindi conviene sempre per un ragazzo che finisce la scuola adesso puntare a fare un lavoro da dipendente e essere pagato da qualcuno invece di crearsi la propria strada cioè che ne pensi di questo discorso vi dico una cosa che farà piacere a tutti i guru c'è una ricerca poi vi dico non ricordo adesso la fonte precisa l'ho letta su linkedin hanno chiesto per rispondere a questa tua domanda in tutta Europa tu che cosa vorresti fare da grande influencer no in Italia secondo voi cosa ha vinto l'unico paese in tutta Europa il calciatore il criminale l'imprenditore no non lo spacciatore qui c'è proprio una tendenza al masochismo in Italia questo è dimostrato l'imprenditore quindi il paese più tassato perché probabilmente si ha la percezione che facendo il dipendente facendo non imprenditore non ce la fai perché lo stipendio però non è vero perché alla fine in futuro sarà sempre peggio se ci pensi i soldi continueranno a stamparli gli stipendi non so se li aumenteranno ti stavo dando ragione la percezione comune io non ho ogni percorso è personale per me per fare l'imprenditore ci vuole l'indole non dico un po' nascere ma ce lo devi avere quando dico la scuola non si insegna l'imprenditore che vuol dire la scuola può insegnare la cultura di gestione dei soldi la cultura di gestione finanziaria cos'è un tasso di cambio cos'è un tasso di interesse queste cose qua puoi e devi cos'è il risparmio questo cos'è l'interesse del composito se roba è quale puoi eventualmente fare il risparmio non insegnare come si fa l'imprenditore non è una cosa che puoi insegnare secondo me puoi insegnare delle strategie per essere un miglior imprenditore e puoi studiare per conoscere le robe per essere un miglior imprenditore però come tu dicevi che si percepisce effettivamente questo fatto che con gli stipendi oramai a stento arriva la fine del mese perché sono stagnanti perché si è eroso al contempo il potere d'acquisto il potere d'acquisto medio sono scesi in realtà i stipendi in ultimi vent'anni magari non sono manco rimasti sono scesi anche peggio 1,2% se non ricordo male l'unico paese in Europa e quindi uno vede nell'imprenditoria la via d'uscita se faccio l'imprenditore mi metti in proprio faccio i soldi però non è meno imprenditore anche tipo un freelancer vendere servizi diciamo non per forza aprire un'azienda con 20 dipendenti ti parlo di me che sono un freelancer al 2014 dopo essermi dimesso da dipendente nel 2011 che lavoro facevi prima? io ero dipendente lavoravo in televisione come giornalista io ero assunto in televisione in televisione locale che peraltro è fallita ho qualche anno e sono andato via perché se andavo via a te è fallita esatto no è fallita salutiamo la televisione locale no c'è più no è fallita come sono fallita tante realtà locali perché vabbè questo è un altro tema non lo possiamo affrontare qui perché per come vengono gestiti sono stati poi gestiti con le varie riforme i fondi pubblici e la teoria e la fuscina ai nuovi talenti del giornalismo che erano le relazioni locali molte sono morte altre sono state gestite con i piedi quindi sono fallite perché se lo meritavano però tornando al tuo discorso occhio perché ripeto fare l'imprenditore anche il filenza anche il libro professionista significa voi dovete ragionare così un dipendente che prende 2 mila al mese netti 13esima, 14esima il TFR alla disoccupazione alla liquidazione per avere un intorno equivalente a partita IVA quindi se vi ammalate i cazzi vostri se vi infortunate i cazzi vostri non avete il TFR non avete nessuna forma di ammortizzatore sociale e se è stato inordinario il 50% di quello che è dovete guadagnare almeno 5-6 mila al mese però capito anche se secondo me anche questo discorso si sta un po' smontando diciamo anche l'Inps i contributi che ti paghi è uscita questa statistica tipo una settimana fa ora non so se la dirò correttamente che il 50% degli italiani sono contribuenti il resto non adesso sarà Dubai per un ragazzo che inizia a lavorare a 20 anni non è che la pensione è così garantita no non è garantita la pensione io non sto parlando di pensione sto parlando infatti di quanto tu dovresti guadagnare da freelance quindi da partita IVA per equivalere a uno stipendio da 2.000 euro però secondo te da freelancer da partita IVA con tutte le incredibili opportunità che ormai nel 2023 abbiamo anche nel 2023 nel 2023 abbiamo cioè secondo te arrivare a quelle cifre è così difficile no io no è chiaro che prima inizi meglio è quindi perché capisci anche se fa per te la partita IVA perché anche lì la partita IVA non fa per tutti perché magari tu un anno a me è capitato un anno fatturi 100.000 euro l'anno dopo 30 comunque non c'è un sistema un sistema giusto di tutela no più che altro anche una persona che decide di avviare un modello di business deve capire se quella cosa gli va bene l'Italia ovviamente gli impone che per farlo deve partire con una partita IVA e se scopre che dopo due mesi questo non gli piace ok non è la sua vita fa tutto schifo che deve fare paga per chiudere la partita IVA vabbè ora c'è il forfettario non è che ti ho assatato io ho capito che c'è il forfettario grazie a mangi non ci sono i minimali i WS che costavano 4.000 euro al mese però voglio dire mi devo per forza imbegare per capire se mi piace cioè voglio dire ti vuoi fare l'idraulico vai in prova da uno stai una settimana quello ti fa un contrattino bla 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 e ci sei e quindi cosa secondo te ma io direi una ditta costa 100 euro costa 100 euro apri una ditta non è che è tutto questo 100 euro io ho pagato 150 euro il commercialista non me lo dico dove l'SRLS no no l'SRLS ah la partita IVA quando inizia pensavo la società ah no mettiamo caso 1 ha comunque l'indole vuole aprire la partita IVA c'è anche portato secondo te l'università in quel caso può aiutarlo è fondamentale oppure no guarda io ti parlo ah beh io ti parlo da avendo una non laurea in economia aziendale e una non laurea in scienze politiche ne parlavamo prima ho fatto un anno e mezzo economia aziendale sostegno tutti gli esami tra l'anno e uno e poi scienze politiche un altro anno e mezzo un altro anno e mezzo e ho mollato perché l'università mi stava soffocando per quello che rimaneva ok per quello che rimaneva da fare che a me non interessava più studiare lì sono stato un po' snob però mi sono preso un'abilitazione professionale come giornalista che prevede l'esame di stato bla bla quindi ho detto io l'abilitazione professionale l'ho presa nella vita voglio fare il giornalista e l'imprenditore ho preso l'università tanto almeno l'università ha dato tantissimo tantissimo come metodo come miglioramento della capacità di studio apprendimento e di confronto ok come capacità di programmare perché tu devi organizzare gli esami devi tenere gli esami devi rispettare le date comunque ti ha aiutato io ho lavorato tantissimo mi hanno dato tanti spunti ti ha responsabilizzato io ho studiato psicologia sociale sociologia psicologia storia ma tutte le robe che mi hanno ispirato adesso noi vediamo le biografie dei soliti che vengono citati da chi dice che è meglio andare a abbandonare la scuola in terza media che ovviamente è una follia Steve Jobs Steve Jobs se voi leggete la sua biografia o ascoltate anche il suo famoso stay angry stay foolish che rimane solo quello il discorso di Stanford se voi ascoltate tutto quel discorso Steve Jobs dice una cosa bellissima che lui è grazie all'università che ha inventato il font su Macintosh cioè senza la frequentazione da abusio che diceva andavo l'Africa seguivo quello che mi interessava come ti sembra a fonte di Apple io odio quindi non mi fai domande su Apple perché è una società che detesto però è solamente quella che vale di più nel mondo tra i principali fuffari in assoluto che ti dicono ti tagliamo il caricabatterie per l'ecologia no per ciularti più soldi così sia onesto vabbè comunque però lui si discute Steve Jobs non si discute poi grandissimo guru il primo guru multinazionale che ha rincoglionito una marea di gente che balla le sei il mattino per fare la fila è roba proprio da gente che dovrebbe avere l'accompagnamento e quindi da là lui dice io grazie all'università grazie alla frequentazione dei corsi Stanford tu hai avuto questa ispirazione senza probabilmente oggi Apple non esisterebbe Mark Zagemer anche lui nel laureato ha fatto un attimino Harvard Mark Zagemer è un attimino un genio è un grande e a Harvard ha avuto diciamo ispirazione diciamola così per Facebook altrimenti Bill Gates anche lui non si è laureato ha frequentato Harvard aveva una madre che era un dirigente importante lì che iniziò a sviluppare le prime quindi è tutta gente che come minimo è tutta gente che non si è laureata ma è stata però c'è stata è stata contaminata cioè dire è proprio inutile anche solo pensare di frequenze questo è il messaggio folle non vi scrivete all'università andate fuori dall'università non pagate io seguivo da abusivo scienze politiche a Caserta accompagnavo la mia ex ragazza e seguivo scienze politiche mi sedevo là che cazzo mi diceva niente però l'ho fatto perché mi interessava quel tema ho conosciuto il professore Micocci mi ricordo mitico sai quei professori capelli lunghi proprio comunisti che stavano a Roma in una casa bellissima è una testa così London School of Economics teneva le lezioni bellissime però lui lo dice lo dice anche Giovis io andavo là seguivo ma non tenevo gli esami seguivo quindi sì rubate quello che potete rubare se vi piace studiare andate all'università affidate la prima possibile al meglio però è chiaro che per fare imprenditori o i professionisti non è che a meno che non potete fare gli avvocati gli architelli i soliti di cose no? ingegneri il medico e le vituate laureate ma tutto il resto che riguarda la libera iniziativa imprenditoriale non vi serve all'università però vi serve studiare e l'università a me mi ha dato tanto perché io già studiavo tanto alle superiori ma all'università ho venduto molto di più e se un ragazzo vuole iniziare a fare impresa diciamo che vuole iniziare magari a fare freelancer e avviare la sua agenzia per vendere il proprio servizio di facebook ads esempio banalissimo se a te gli conviene andare all'università o cercare un corso perché no online da un mentore che gli insegna a fare questo prima di tutto devi andare a un psicologo e cercare di far spiegare perché vuole fare questa cosa cioè deve capire fare un'analisi anche lui psichiatriche capire perché si vuole suicidare no perché io vengo dalla web agenzia ma è giusto allora quali sono gli step per fortuna oggi viviamo in un'epoca dove le informazioni sono fin troppe quindi tu sei bombardato allora io cosa farei tra amici e conoscenti e parenti e contatti facebook quindi spesso le cose più sempre che noi ci pensiamo c'è qualcuno che fa questo lavoro io per esempio a breve aprirò un franchising che si occupa nell'immobiliare chiedi a chi ha un immobiliare da 15 anni come va questa cosa questa parte che vorrei fare e non uno perché uno magari ti dà ti dà un'impressione sbagliata perché lui in quel momento è in uno stato negativo e quindi dice no non lo fare guarda un altro invece è troppo entusiasta perché quindi senti due tre persone qualcuno che già fa quella cosa che già le fa quindi fatti raccontare le difficoltà e soprattutto è un test se trovi qualcuno che ti smonta il primo contatto mi ha smontato ho detto no ma sei pazzo io non lo farei mai guarda un consiglio da fratello lascia stare io ancora di più convinto ma non perché sei pazzo perché avevo che io l'ho avuto su di me la stessa cosa c'è sempre gente che ti smonta anche perché se volentieri sono i genitori i genitori sono i primi mia mamma a me mi fece una capa d'alta quando io lascia l'università e lei è delusissima perché io lascia l'università a me ne fregava una fega una sega perché io avevo 21 anni non tutti a 21 anni magari hanno la forza sono già soddisfatto ho più creato la lucidità di fare la scelta giusta in quel momento non tutti ma c'è tanta gente magari hai però hai fatto anche altro nella vita ma legittimamente se sentite il monologo di Big Kauna che è bellissimo il monologo finale di Big Kauna un film abbastanza famoso con Kevin Spacey e Danny De Vito dice io conosco gente che ha più di 30 anni molto interessante gente più interessante e non sa ancora cosa vuole fare nella vita quindi ci sono i predestinati che già a 20 anni già sanno che loro faranno i calciatori faranno i giocatori pochi professionisti imprenditori giornalisti e bla 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 come facevano? e altri non sanno cosa vogliono fare dice tante cose belle me lo mandava sempre il mio papo quando ero ragazzetto invece quello me lo fece conoscere il mio compagnolo di banco pruribocciato che era una mente particolare chitarrista pruribocciato quindi la scuola andava male però per una mente molto aperta su tante cose quindi vedi è sempre allora quello che la scuola dovrebbe insegnare spesso non lo fa è a intercettare e concepire l'eccezione cioè a non ragionare per compartimenti stagni scorciatori di pensieri oristiche cioè per pregiudizi è così allora l'imprenditore se voi parlate nell'immaginario collettivo e questo è vero l'imprenditore non è visto spesso bene è visto come uno che fa si guarda l'abbratore è ricco perché ha truffato perché ha truffato che poi anche vedi è anche vero molte volte io dicevo prima lui in macchina quando tu vedi quando tu vedi gente che ha 30 anni c'ha la Porsche io lo dico chiaramente anche io qua lo ripeto quando voi vedete gente che ha 30 anni e c'ha la Porsche da 200 mi dà fastidio un po' no non mi dà fastidio dico questo o è un truffatore o è un evasore totale o è un truffatore lo spaccia lo spaccia troppo o è un editiero aspetta o è un editiero quindi è uno che è ricco di famiglia o è un fenomeno però aspetta se è ricco di famiglia sicuramente alla base c'è stata una truffa iniziale totalmente no sicuramente potrebbe essere pensere che tuo padre ha truffato qualcuno infatti perché uno a 30 anni se ha soldi dovrebbe cioè dovrebbe esserci questo pregiudizio se non hai soldi non è che non è un pregiudizio è un fatto voi parlate cioè se uno a 30 anni non c'ha soldi allora vuol dire che l'ha fatto in modo disonesto no no attenzione o è un genio o è uno molto bravo molto molto bravo che è stato anche fortunato noi ci sono tutti però fare soldi la fortuna non esiste questa è una grande cagata è una combinazione è una combinazione la fortuna esiste come sono stato molto fortunato nella mia vita in tante occasioni stiamo parlando con la mia famiglia e nel mio contesto è uscita così la giacca non ce l'ho comprato io io sono molto fortunato la fortuna secondo me la attrai germano la puoi attrarre ma c'è c'è tu attrai pure la sfiga bravo assolutamente quindi è un alibi la sfiga così come quindi no in realtà se tu hai un tuo genitore che a un certo punto a 40 anni si pia un tumore e muore e tu resti orfano e hai 10 anni come fai a dire è stato una fortuna non conta quella roba ha indirizzato la tua vita poi tu magari reagisci bene perché dindole si è fatto in un certo modo gli elementi le variabili incontrollabili noi non possiamo controllo noi ci illudiamo ci piace illuderci questa cosa noi possiamo controllare tutto non è così non è così poi un giorno ti svegli monologo di Biccauna tu programmi la tua vita dici sono figo sono forte io ho il mio destino me lo scrivo io poi bababam ti piomba addosso una cosa massacrante alle 4 di pomeriggio di un martedì mentre tu eri convinto che stai facendo tutto il programma stai fondando una nuova azienda quindi la componente casuale c'è sempre noi siamo tutti quanti tutti quelli in questa stanza siamo già di base più fortunati perché siamo stati partoriti in una certa zona di mondo poi ci sono zone ancora più fortuna di noi perché voi immaginate a nascere nella Silicon Valley negli anni giusti amici miei con le idee magari che probabilmente avremmo avuto altre opportunità è vero anche altri concorrenti perché è tutto in proporzione però anche altre opportunità se nasci in Mozambico nel 1992 io credo che non puoi diventare il nuovo Elon Musk oggettivamente per quanto tu ti impegni non è proprio il contesto familiare non sai nulla la CEO di Pepsi si va su altri temi poi ci sono dei casi particolari quello che si diceva con Michael Lopez nella puntata che volendo con i soldi si può vabbè non ve ne frega un cazzo no no scusami vabbè si hai ragione con i soldi con i soldi si diceva anche con Michael Lopez sui dati in puntata che c'è un oggettivo cioè i soldi sarebbero per risanare il mondo per evitare togliere la fame volendo solo che ad esempio in Africa non vengono messi questi servizi perché ci fa comodo tenere quelle persone in quella maniera ma che ragazzi non è sostenibile se tutto io leggevo su non ricordo su quale giornale la fonte dottorevole dice che calcolava che se tutto il mondo consumasse come consuma la sola Europa ci vorrebbero cinque pianeti quindi c'è proprio un problema di insostenibilità generale sei d'accordo sul fatto che se io domani prendo tutti i soldi del mondo e li distribuisco equamente a tutti vabbè però tempo poco dopo tornano esattamente nelle stesse tasche no sì probabilmente ho capito il tuo concetto sicuramente il punto è che la regola a base guardate anche i calciatori chi si arricchisce molto rapidamente nella vita o a caso perché è molto fortunato vinco la lotteria caso estremo iperbolico di fortuna i soldi li perde molte volte perché o li perde o li spende male li vive male perché non ha avuto quel tempo io dico per soffrirli cioè per per piacere il cazzo di soldi non a dire io li ho sofferto oppure c'hanno il rapper che diventa milionario a 22 anni subito si deve sputtanare perché lui si deve fregare i vieni ma le vinci a de che? se non è anche tanti rapper di ora fra i 10 anni non c'hanno più una lira con tutto lo spavio il povero prima diventerai povero entro 10 anni voglio dire così perché non c'è educazione finanziaria non c'è educazione finanziaria però attenzione educazione finanziaria io l'ho avuta anche perché mio papà ti sei formato da Bardolla mi sono formato da mio padre che è commercialista e ha un certo approccio per molti versi anche molto lontano dal mio molto diverso dal mio lui è molto più tirato cioè il mio padre c'è la stessa macchina a 12 anni io ne ho cambiate 4 negli ultimi 5 i tempi erano molto più risparmiatori sì io dico sempre se il buyer person che fosse cash business fosse mio padre io penso che il 90% delle aziende sarebbero fallite oggi noi avremmo un'economia cioè saremmo indietro faremmola qual è stata la fuffata che avete trattato la fuffata reale che avete trattato su fuffix tipo quella più eclatante che avete smascherato questa forza pistono io mi ricordo quella quella più simpatica allora non ti so dire qual è stata la più forse il più clamoroso è stato Matteo Saba ah quindi recente recentissimo perché era un pruri pregiudicato con nato in via definitiva in Cassazione lo ripeterò un pruri pregiudicato quindi all'ultimo step sì che ha cercato indisturbato di guadagnarsi posizionamento sputtanando tra virgolette altre persone che erano i guru dei quali parliamo spesso anche su fuffix e poi abbiamo scoperto un castello di carte incredibile sotto che mi lantava una laurea probabilmente a solo una terza media che mi lantava di avere 100 milioni di euro di capitalizzazione che diceva di avere 4 Ferrari e non ce n'è traccia cioè è lui che è diventato la sua nemetric cioè lui criticava ricordate il video di Macorick criticava mai ma tu senti le Lamborghini tu dai dei valori sbagliati ai giovani io sono un imprenditore poi lui era esattamente la copia quello che lui si esatto cioè lui negli altri anche adesso lui continua a dire a me restituisci i soldi che hai rubato è quello che ha fatto lui cioè lui ha rubato dei soldi a degli investitori se li è presi è stato prescritto per una parte condannato per una parte prescritto per truffa è appropriazione in debita perché ha raccolto dei soldi dagli investitori per fondare una società e poi questi sono gli aspetti per fatti suoi quindi quella è stata la cosa più clamorosa cioè oltre la fuffa cioè lui non c'è la sua fuffa adesso ti farei una domanda un po' provocatoria come giudichi invece i titoli clickbait usati proprio dai giornalisti stessi per pubblicare quelli che sono i loro articoli che attenzione comunque si parla di monetizzazione anche lì e è marketing anche quello sotto un certo punto di vista io penso sempre che noi stupriamo il marketing quando diciamo che sta fitch è marketing allora ti ho dato la risposta lo denuncio da tanto tra l'altro seguo una pagina che a me mi fa morire che si chiama biteman il giustiziere clickbait a quale segnalo tutti gli articoli di clickbait e si vede tanti un po' come quando ci taggono sotto fufflix sotto le ads fuffare se tu vedi spesso sotto articoli di clickbait è morto la notizia data oggi sotto non è morto nessuno e taggano lui quindi una roba a parte contro la deontologia quindi consideri fuffa anche questa assolutamente questo è peggio perché questo è forviante ed è proprio il classico modo per manipolare le persone e portarle sul tuo sito ma c'è proprio dietro un'industria che si muove su clickbait che compra pagine vende le pagine vende i link ai centri media che evidentemente se ne fregano della qualità del tipo di visita quella è una grande piaga una grande piaga che ha minato la credibilità dell'informazione online in particolare ultimissima cosa da un minuto allora io ora faccio il corso guarda tanto ora ci si fa se perdo il treno ma compagni hai visto ho lanciato il corso da altre settimane io ho quella paura di quando devo fare le ads ok hai visto tipo il video ads che compare su instagram come si fa per non essere attaccati da fuflix cioè com'è che fai un video ads se vedi un corso su fuflix fai un video corso su come non finire su fuflix come non finire su fuflix un'offerta avrebbe 10.000 euro ma solo per domani 36 no allora a parte scherzi ecco evitare un po' quelle pratiche che abbiamo più volte infinite volte in realtà segnalato cioè spinge a questi prezzi 10.000 a 97 per esempio proprio il video quello da un minuto il video che ti fa vedere il tuo lifestyle ecco video con questo business ho svoltato gli altri guru dicono cacate io sono poi ripeto non è che sei un criminale se fai una cosa del genere cioè uno puoi finire su fuflix ne parliamo tu dici vada dai ragazzi il corso è buono chiedete anche questo vorrei chiarire sennò pare che su fuflix poi c'è la crocifissione dei poveri creatori di ads l'ads la devi fare in modo tale da dare informazioni corrette trasparenti e precise la sfida vera è quella amico mio perché il modello copia e incolla fuffaro è sempre lo stesso è sempre uguale ce lo può fare qualunque mediocre che non sa manco scrivere bene in italiano allora la sfida la differenziazione che ti dicevo prima quando tutti fanno marchette tutti i giornali fanno marchette dov'è che io mi differenzio quando dico no io la marchetta non la voglio fare se tu per me non sei credibile come realtà ho fatto un fact checking io non ti pubblico allora che cosa faccio attraggo clienti migliori più consapevoli che vogliono stare sul mio giornale perché sanno che autorevole nel tuo caso devi sfruttare le leve che hai perché molte volte sapete cosa succede che volendo prendere per forza una scorciatoia noi non vediamo che la strada maestra uno non è tanto più lunga ma è più pulita è meno pieno di bucchi tu devi prendere quella quindi tu il tuo cervello si spegne gli uniche leve che ho è il fake counter la fake urgency è l'unica cosa perché solo questo funziona quella è la morte del marketing ragazzi perché il marketing è creatività è reinvenzione ah sì questo è vero se tu ti appiattisci e poi le disegno sono tutte uguali funzionano pure meno cioè questo ve lo potranno confermare pure quelle che usano certi schemi funzionano sempre meno perché tu ti come se ti vaccinassi cioè ormai l'hai visto cento volte quindi vero quello in Lamborghini addirittura oggi prova a fare una cosa con Lamborghini vedi che succede c'è un sacco di gente molta di più rispetto a due anni fa che ti manda a culo anche se magari il tuo prodotto è valido e la Lamborghini te la sei comprata è tutto a posto se non è comunque quella roba io la sconsiglierei infatti vedevo su Fuflix ieri l'altro che parlavate di questo che aveva fatto l'azzo che diceva non ho Lamborghini non ho anche quello cioè il contrario diceva anche quello non va bene è stato onesto non va bene non è anche doveverla ce l'hai? no in realtà attaccavano il fatto che la prefazione del libro era di facchinetti era quella roba lì ah sì frisone no come si chiama vabbè comunque trovano frisone allora lì però è sfidante Fuflix perché sono una massa di rompicoglioni siamo no e quindi tu trovi sempre degli spunti poi è chiaro che ad alcune cose ti puoi dici vabbè queste sono pippe mentali di dieci di loro di mille di loro sti cazzi no le posso tranquillamente ignorare se no non ne esci più però le cose diciamo più clamorose gli errori marchiani sono quelli che raffetti dei quali noi parliamo da una vita cioè rifletti sul bello valore del tuo corso su come comunicare il valore l'utilità alle persone cioè tu devi restituire un prodotto che quando qualcuno se lo compra è felice e non se lo compra perché lo stai emozionando lo stai forviando gli stai promettendo che la sua vita sarà bellissima ma perché gli stai proponendo un prodotto di qualità e di utilità questo è quello che devi essere capace di lavorare per la consenza completa poi ti va più 2000 non sono 100% d'accordo però ci sta ci sta secondo me ci vuole la giusta via di mezzo perché comunque quando vendi un prodotto devi vendere anche quello che il prodotto a cui il prodotto ti può portare non solo il prodotto stesso però da una parte ti do ragione certo certo lo dici dici guarda se vieni puoi fare questo puoi diventare questo il percorso ti permetterà di diventare faccio un esempio a caso esatto un buon conoscitore un conoscitore eccellente del mondo cripto se è vero però tu sai che è una cazzata è controproducente perché tu adesso lo attiri quello domani dirà no ma quello mi ha preso per il culo e già sapete bene che di clienti idioti ne esistono una marea di clienti che urlano la truffa perché sono dei deficienti e non sanno neanche come si scarica un software il problema è urlare alla truffa prima senza provare il prodotto quello non lo puoi pure questa è un'altra cosa dipende se io vedo una pizza bruciata non è che me la magno è una pizza bruciata fa schifo la vedo non è che me la devo mangiare quindi se vedo che il prodotto fa schifo in questo caso il corso non lo hai visto eppure tante volte si grida alla truffa prima di vederlo più che alla truffa io dico sempre di non usare questo cazzo di tema della truffa alla fuffa alla fuffa che può però riguardare anche drive key con alfa romeo quindi non significa o fa tutto schifo arrestati significa è diciamo comunicato in maniera un po' furbetta poi tu puoi decidere comunque di comprarlo perché alla fine il prodotto c'è c'è là la stelvio c'era non è che non c'è la macchina ma lo sapevi Germano che nei corsi online c'è la statistica che tipo il 30% delle persone che compra non guarda tipo le prime due tre lezioni cioè questo è proprio il discorso che dice anche lui su cui dà ragione dell'urgency che gente lo compra perché tu lo compri bravo vedi hai detto la staggertissima perché innanzitutto perché una parte è pigra quindi lo compra poi si scoglie ma se io ti strattoni entra 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 nel mio locale entra nel mio locale entra nel mio locale tu non hai voglia fondamentalmente guarda è pieno di figa il locale poi entri ci sono tre persone tre maschi è normale che te ne esci al locale ti senti più reagito quindi tutto ha una poi una controparte allora se tu spingi molto sull'hype molto io non dico che non bisogna farlo ragazzi il marketing è hype è emozione è storytelling ci sono tutte queste leve è anche che ti spingo un po' a scegliere e non dire quando vuoi poi non funziona anche se in alcuni casi la psicologia inversa pure funziona non c'è di essere bravo però se il 30% di corsi manco li guarda vuol dire che tu sei andato da un target che il tuo corso non se lo doveva comprare oppure magari la gente vuole il sogno ma non è disposta a fare quello che c'è no non sono d'accordo che non è il che non sono d'accordo semplicemente uno spende solo gli etteroni no no però nel senso se uno spende 2000 euro e non fa un corso ma anche se spende 40 euro come te lo spieghi tu è un coglione quindi stiamo dicendo che il 30% di acquirenti videocorsi sono coglione sono coglione ma poi potrebbe darsi io compro un corso spendo 10 euro anche se spendo 10 euro lo faccio forse perché sono stato abituato a sudarmi di soldi sai che è capitato anche a me di comprare corsi e non farli è successo anche a me è coglione sono coglione ma può capitare io spendo tanto informazione tantissimo a me è successo che andai a un seminario di uno che ti insegnava a investire con gli immobili dopo di 19 anni ti sei andato ti sei tappato gli occhi sono andato al seminario tre giorni mi hanno fatto un lavaggio mentale ho comprato il corso 5.000 euro e non l'hai fatto l'ho fatto i primi così e poi non l'ho portato avanti perché nel frattempo quello fa Amazon FBA ma ci sta vedi però in quel momento tu eri opportuno di Seeker però mi hanno lasciato la testa proprio nel seminario tre giorni tutte quelle frasi belle motivazionali capito è così va bene forse io sono diverso va bene va bene siamo stati tutti un po' io attenzione attenzione grazie mille a Germano Milite grazie a voi ragazzi grazie a voi grazie anche ai ragazzi a regia grazie a noi non si vedono allora ogni ospite si deve lasciare il proprio autografo io non so scrivere più accanto a Banna Marchi ce lo metti dove vuoi dove vuoi su quella lì Amiflex la toga quella è il poltrone sofà che abbiamo citato si legge chiaramente il Germano Milite no l'incubo del tuo curo viva i guru viva i guru l'incubo del tuo curo Fuflix è la grande è la grande ma lo fai un po' di merchandising Fuflix a breve a breve lo faremo prenderemo magliette dei pregiudicati ciao a tutti ragazzi ciao ragazzi grazie Germano grazie mille grande grande grande